Un protocollo di intesa. A lungo preparato tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. E' questa l'intesa che oggi, con la firma del protocollo, ha visto la luce presso Palazzo Lombardia. A siglare l'accordo Stefano Bruno Galli, Assessore Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, e Monsignor Conrado Sanguidenti, Vescovo Delegato ai Beni Culturali per la Conferenza Episcopale Lombarda e Vescovo di Pavia. Presenti tra gli altri il Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Franco Agnesi, Vescovo anche Delegato dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale, Monsignor Luca Bressan, Vicario Episcopale di Settore, Monsignor Giuseppe Scotti, responsabile per i beni culturali dell'Arcidiocesi di Milano, e l'architetto Carlo Capponi, incaricato per i beni culturali della Conferenza Episcopale Lombarda. L'intesa consentirà di costruire politiche di ampio respiro, con nuovi metodi gestionali e finanziari, e di collocare il patrimonio culturale di carattere religioso nell'articolato contesto delle politiche europee di valorizzazione dei beni culturali. Oggetto dell'intesa è il patrimonio immobile, gli edifici di culto, naturalmente, e i luoghi di aggregazione, e poi il patrimonio mobile, gli arredi, quadri, statue, il patrimonio archivistico, Riconsegnare l'archivio delle... Ma anche tradizioni e saperi. In Lombardia ci sono su 1500 comuni 1350 biblioteche pubbliche. Se considerassimo anche le biblioteche ecclesiastiche, arriviamo a quasi 3000 biblioteche su 1500 comuni. Questi sono i dati del patrimonio ecclesiastico di questa regione. L'intesa è la prima di questo genere in Italia, e quindi è stata salutata con estrema soddisfazione, sia dalla regione Lombardia che dalla regione ecclesiastica Lombardia. Il senso di questo accordo è appunto attivare una collaborazione. L'accordo dovrebbe permettere poi anche il potere ad ira dei fondi europei, che potrebbero essere utili chiaramente per la mantenimento e la valorizzazione di questi beni, che hanno un doppio valore, direi. Hanno un valore innanzitutto storico-culturale, perché questi beni dicono un po' quello che siamo, la nostra storia, che è una storia chiaramente, fortemente informata dalla presenza della Chiesa, del cristianesimo. Però questo interesse storico-culturale può parlare a tutti, credenti e non credenti. E poi certamente, dal punto di vista anche ecclesiale, il costudire e valorizzare questi beni diventano soltanto un segno, come dire, di fedeltà rispetto a un'eredità che ci hanno tramandato i nostri padri. Ma diventa anche un modo di utilizzare quel canale, che è il canale della bellezza, dell'immagine, che diventa anche un annuncio di fede. Il coronamento di un percorso, che è un percorso degli ultimi quattro anni, finalizzato agli interventi di recupero e di manutenzione dei beni culturali di matrice ecclesiastica, ricordo solo per esempio l'intervento che abbiamo fatto nel 2019 per il restauro della ristrutturazione dei beni ecclesiastici, siamo andati tre volte a scorrimento, abbiamo premiato 87 progetti impegnando complessivamente 20 milioni di euro. Per cui, come dire, ci siamo resi conto, proprio attraverso le visite sul territorio, che il patrimonio di natura ecclesiastica, al di là del patrimonio architettonico, anche quello artistico, rappresenta uno degli elementi essenziali dell'identità culturale lombarda. Perché la storia della nostra regione è fortemente segnata dalla presenza della Chiesa. Un valore storico-culturale, quindi, che parla di una lunga storia di fede, ma che è anche laico, perché non solo per le Chiese o della Chiesa, ma di tutti. C'è una bellezza che può intercettare il cuore e che chiaramente diventa anche una proposta dell'annuncio della fede. Mi pare molto significativo il fatto che si attivi questo protocollo e che speriamo evidentemente che il protocollo, come dire, è un po' una cornice, una cornice che può andare riempita, sia ovviamente da delle risorse che si potranno rendere disponibili, e sia proprio da un mettere in atto una collaborazione nella scelta, nell'individuazione di alcuni beni in modo particolare che richiedono a volte interventi, interventi a volte di grande rilievo, anche peso economico, interventi che spesso le comunità cristiane non sono più in grado di sostenere, e dove allora è importante che ci sia questa sinergia tra comunità ecclesiale e comunità civile. Costruiamo questa cornice di carattere amministrativo istituzionale per poter intervenire con maggiore facilità e anche in tempi stretti, perché io ho visitato per esempio delle chiese con la navata centrale spezzata in due, perché aveva ceduto il terreno sottostante e quindi dalla parte dove c'è il campanile che è più pesante rispetto all'ingresso aveva proprio spezzato la navata centrale e siamo intervenuti mettendola in sicurezza per evitare il deperimento di una parte del patrimonio lombardo che è essenziale, che è vastissima e che è fondamentale per l'identità culturale del nostro popolo. Grazie a tutti!